Entriamo nel vivo di questo concerto celebrativo proponendovi il primo brano in programma, quello che suonerà l'antica orchestra del Corpo dei Pompieri di Torino. Il titolo di questo brano è March to Mars di Julius Steffaro ed è una marcia da concerto dal carattere solenne e marziale scritta nel 1984 per il concorso di composizione promosso dalla Radio Nazionale Norvegese. Il tema principale è sempre sostenuto da una base ritmica semplice che ne sottolinea efficacemente il carattere. La strumentazione e l'arrangiamento per orchestra a fiati sono stati curati dal maestro olandese Johan de May. Allora, l'antica orchestra del Corpo dei Pompieri di Torino è pronta alle nostre spalle e potremmo anche dedicare un applauso perché non l'abbiamo ancora fatto da quando hanno cominciato. Però non si può cominciare così perché manca qualcosa, anzi qualcuno. Io non saprei dirigerla, ecco. E allora chiamiamo qui sul podio il maestro Stefano Coppo. Un altro grande applauso per lui. Marche to Mars Grazie. 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 Grazie.